Le mani dell'Andrangheta sul termovalorizzatore e sul depuratore di Gioia Tauro è quanto è stato scoperto con l'operazione Metauros, condotta da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri con il coordinamento della DDA di Reggio Calabria e finalizzata l'esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di sette persone presunte affiliate alla cosca Piro Mali dell'Andrangheta. I reati contestati sono associazioni mafiose, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. Nell'ambito dell'operazione è stato anche seguito il sequestro preventivo d'urgenza relativa alle quote azionarie di società operanti nel settore della depurazione, trattamento delle acque, trasporto e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi. L'inchiesta svela per la prima volta il condizionamento della cosca Piro Mali nella costruzione e gestione dell'unico termovalorizzatore presente in Calabria, ubicato a Gioia Tauro, in un'area prospicente al porto, attraverso un consolidato sistema di sottoposizione e attività estorsive delle società che nel tempo hanno gestito la struttura di trasformazione dei rifiuti. Ad analoga attività estorsive era sottoposta la IAM, iniziativa ambientale meridionale ISPA, con sede a Gioia Tauro, operante nel settore della depurazione delle acque. Tra i fermati figurano Rocco Lavalle, imprenditore nel settore dei trasporti su gomma, già sindaco di Villa San Giovanni dal 2010 al 2015, collettore delle tangenti ed unico interlocutore delle cosche beneficiarie del compendio estorsivo imposto alle società che hanno gestito nel corso del tempo il termovalorizzatore di Gioia Tauro, e l'avvocato Giuseppe Luppino, già presidente del Consiglio di Amministrazione di Piana Ambiente e SPA, nonché consulente esterno dell'ufficio legale del commissario straordinario per l'emergenza di rifiuti in Calabria, uomo politico di riferimento del sodalizio mafioso dei piromalli, nell'opera di instradamento verso il termovalorizzatore di Gioia Tauro. Attraverso l'impresa dei fratelli Giuseppe Domenico e Paolo Pisano di Gioia Tauro, anch'essi fermati nella medesima operazione. Con l'accusa di essere uno dei capi della cosca Piromalli e il direttore delle infiltrazioni nell'attività del termovalorizzatore di Gioia Tauro, è stato fermato anche l'avvocato Gioachino Piromalli, già condannato per l'associazione mafiosa nel processo Porto.